Maniero sì, Maniero no. E' questo il motivetto che sta accompagnando la torri d'estate dei tifosi della Salernitana. L'attaccante napoletano di proprietà del Catania è al centro di una vera e propria telenovela, ricoprendo il ruolo della donna contesa tra due uomini, in questo caso la Salernitana e il Bari. Alla fine chi riuscirà a spuntarla? Ora è difficile capirlo. Questo perché gli equilibri cambiano di giorno in giorno, forse anche di ora in ora, come spesso accade nel mercato estivo. Per adesso l'unica cosa certa è che Maniero non si può considerare un giocatore né del Bari né della Salernitana, ma anzi è a tutti gli effetti un tesserato del Catania, non avendo ancora firmato la rescissione del contratto. Questa cosa alla luce delle ultime notizie trapelate ieri che davano il bomber partenopeo già in viaggio verso il tavoliere delle Puglie fanno ben sperare. La Salernitana prima di piazzare questo ennesimo colpo in entrata deve sfoltire un po' la rosa. Le operazioni in uscita però sono programmate non prima della gara di Team Cup di scena lunedì al Bentegodi contro il Chievo Verona. I giocatori impredicato di cambiare maglia sono Perrulli, Grillo, Bocchetti, Castiglia e Kalil. Sì perché per poter ipotizzare l'arrivo di Maniero bisogna presumere la cessione del brasiliano, che tra i tanti nomi in lista di sbarco è quella da avere più richieste sul mercato. La Salernitana vuole monetizzare dalla cessione di Kalil visto che lo scorso anno l'operazione è costata circa 600.000 euro alle casse Granata. Il Foggia è sempre alla finestra ed attende un cenno dalla Salernitana per sedersi ad un tavolo e trattare la cessione del bomber Carioca.